in diretta la rassegna stampa del mattino oggi è venerdì 20 marzo 2020 ad un passo dalla primavera ma come vedremo tra pochissimo la primavera invece farà la sua comparsa più tardi farà la preziosa si nasconderà e darà ancora spazio all'inverno ma l'inverno forse è come quello che non abbiamo mai visto lo vedremo tra poco nelle previsioni del tempo diamo un sguardo adesso al santo di oggi oggi è un santo che si chiama San Giovanni Nepomuceno a Praga in Bohemia San Giovanni Nepomuceno sacerdote e martire che nel difendere la chiesa patì molte ingiurie da parte del re Venceslao IV e sottoposto a torture e supplizi fu infine gettato ancora vivo nel fiume Moldava il sole è sorto alle 6.10 e tramonterà alle 18.21 vediamo il tempo la previsione per la giornata di oggi dal bollettino della protezione civile delle Marche allora diamo uno sguardo e vediamo subito la cartina geografica di oggi con le Marche che vedranno la prima la costa soleggiata e l'entroterra invece con nuvolosità le temperature massime sono in lieve aumento mentre domani sabato primo giorno di primavera avremo una giornata nuvolosa con temperature in aumento nei valori minimi stazionarie invece nei valori massimi ma il peggioramento arriva domenica lo vedete nella cartina avremo un cielo irregolarmente nuvoloso con nuvole che arriveranno dal mare con addensamenti nelle zone interne e avremo anche piogge sparse e più insistenti nelle zone interne ovviamente ci saranno anche le nevicate ma in questa giornata di domenica soltanto nei monti sui Sibillini insomma in montagna in alta quota le temperature sono comunque in diminuzione poi arriverà l'aria fredda balcanica e qui arriveranno appunto le nevicate anche a bassa quota perché avremo un marcato calo delle temperature e precipitazioni nevose fino a quote basse almeno per la prima parte della prossima settimana dunque attenzione perché ecco attenzione a mettere da parte le cose invernali se state rifacendo gli armadi visto che c'è tempo in questi giorni di stare a casa e di fare tutte queste cose qua sappiate che anche se poi non si esce di casa quindi al massimo nel balcone per andare a fare la spesa ma comunque ecco tenete conto che ci sarà questo freddo intenso che arriverà nei prossimi giorni il resto del Carlino non l'abbiamo potuto scaricare questa mattina credo che ci siano dei problemi di scaricamento nel pdf quindi che non dipendono da noi almeno questo e abbiamo quindi il Correa Adriatico il Correa Adriatico l'edizione di Marche Nord perché fino alla fine del mese il Correa Adriatico ha deciso di fare soltanto due edizioni non più quelle provinciali ma dividere Marche Nord e Marche Sud e noi abbiamo l'abbonamento per Marche Nord in questo caso allora apriamo il giornale e guardiamo subito la fotonotizia la fotonotizia riguarda come vedete cinque fotografie cinque uomini, cinque imprenditori e cinque totem definisce così delle Marche ai quali il Correa Adriatico ha posto una domanda, una domanda difficilissima, una domanda per molti imbarazzante perché sono tutte persone vedete avanti con l'età, tutti imprenditori, uomini di successo che hanno soldi che hanno costruito aziende importanti e alle quali appunto hanno chiesto moriresti per un giovane? qualcuno ha risposto di sì e qualcuno ha risposto di no a dire il vero uno ha detto di no, uno insomma è rimasto un po' così, gli altri ha detto ma perché insomma largo ai giovani e quindi chi non ve lo dico nel senso che vi invito ad andare in edicola a proposito qualcuno dice come fai a dire andate in edicola, non si può uscire di casa specifichiamolo bene, è un bene essenziale il giornale e quindi si può andare in edicola se venite fermati potete dire che siete andati in edicola chiaro non potete andarci alle cinque del pomeriggio per comprare chi adesso ho fatto un nome, non volevo ma comunque per andare a comprare una rivista di moda o quant'altro stiamo parlando di quotidiani quindi il quotidiano entro una certa ora è plausibile che uno esca per andare a comprarlo quindi se venite fermati con tutte le precauzioni possibili, immaginabili questo è inutile dirlo ma insomma non incorrete nella sanzione 650-650 del codice penale quindi si può andare, è un bene essenziale, quindi si può andare a prendere il giornale questo lo diciamo anche per aiutare i colleghi che come noi insomma non se la passano bene da questo punto di vista perché lavoriamo in condizioni assolutamente proibitive ma questo è allora torniamo a noi il titolo invece dell'edizione di Marche Nord Ceriscioli da un'altra stretta vedete c'è questa nuova ordinanza che abbiamo pubblicato anche sul nostro sito internet occhionanotizia.it dove c'è una stretta, un giro di vite perché noi italiani purtroppo siamo fatti così abbiamo bisogno di strette giri di vite se no siamo duri di servizio, non la capiamo e allora da domani si chiudono i parchi molti sindaci hanno fatto già ordinanze ad hoc per le città per alcuni paesi, alcune città ma comunque da domani in tutte le Marche chiusi i parchi, chiusi i giardini chiuse le spiagge dove si vanno a fare le passeggiate portaricani eccetera eccetera e attenzione anche le uscite a piedi oppure in bicicletta solo per brevi distanze ma soprattutto solo come se fosse con la macchina quindi si può andare in bicicletta solo per tre motivi come succede per le macchine se avete una necessità di andare a fare la spesa sotto casa se avete bisogno di andare in farmacia sotto casa a prendere qualche cosa per curarvi oppure insomma se dovete andare avete la fortuna di andare a lavorare con la bicicletta vicino casa queste sono le uniche possibilità per cui tutto il resto quindi uscite di gruppo uscite single eccetera eccetera sono vietate il bollettino anche ieri è un bollettino nefasto 22 morti i malati sono 1737 il Corriere Adriatico pubblica comune per comune tutti i numeri del contagio poi c'è una sottoscrizione che lancia il Corriere Adriatico a favore degli ospedali riuniti di Ancona stiamo parlando dell'ospedale Torrette di Ancona c'è un numero, un conto corrente dedicato per l'emergenza coronavirus virus e poi le altre notizie in breve con richiami nelle pagine interne allora ci soffermiamo un attimo su questa questione sulla questione del giro di vite allora sono chiusi al guardiamolo bene insieme rifacciamo bene questo perché se no non ne usciamo più più facciamo i bravi mettiamola come se fossimo all'asilo forse così lo capiamo meglio più facciamo i bravi e più ce l'accaviamo avremo il premio il premio è quello di tornare alla vita normale tutti i giorni il più presto possibile allora i luoghi vietati sono chiusi al pubblico le spiagge i parchi, i parchi gioco e i giardini pubblici l'uso della bicicletta e lo spostamento a pieni sono consentiti solo per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche come vi ho detto lavoro, ragioni di salute o necessità come gli acquisti di genere alimentare quindi in bici o a piedi solo per questi motivi l'attività motoria quelli che adesso sono tutti si sono scoperti tutti tutti corsisti tutta gente che corre eccetera eccetera allora in caso di attività motoria passeggiata per motivi di salute perché c'è anche qualcuno che deve camminare perché gli ha ordinato il medico pensiamo a quelli che hanno che ne so il diabete quelli che devono comunque stare in attività cardiopatici insomma tutte queste persone che possono e devono fare un po' di attività motoria oppure uscire con il cane il cane da compagnia il cane ha bisogno di fare i bisognini non è come il gatto che ha la lettiera lì a due passi in terrazza ecco allora allora cosa deve fare? cosa si può fare? per tutte queste esigenze fisiologiche si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione cioè se venite fermati a 10 km di casa col cane nel parco nel parco ovviamente siete in torto se invece venite fermati sotto casa perché col cane perché ha bisogno sotto casa ci può stare le uscite devono essere svolte poi individualmente cioè il cane non bisogna portarlo tutta la famiglia come ho visto anche in alcune situazioni tutta la famiglia a portare fuori il cane no ci va soltanto una persona andiamo avanti i bar delle stazioni di servizio ora qui lo stesso ci sono dei casi in cui qualcuno ha detto ma perché questo bar è aperto eccetera perché se davanti c'è una pompa di benzina e magari si trova vicino al centro storico o comunque c'è quelli potevano stare aperti ora invece saranno aperti soltanto quelli sulla rete autostradale questi bar e sulle strade extraurbane principali e sono aperti dalle 6 alle 18 da lunedì alla domenica sulle strade extraurbane secondarie ma solo per l'accesso e l'utilizzo da parte degli autotrasportatori di merci se non avete un camion non potete andarci sono chiusi invece nei tratti stradali comunque classificati che attraversano i centri abitati e quindi senza adesso fare degli esempi troppo specifici ma comunque ci sono dei bar che fino a qualche giorno fa erano aperti ma che adesso devono rimanere chiusi i negozi di vicinato l'orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle 8 alle 20 la durata dell'ordinanza produce effetti dalla mezzanotte del 21 di marzo quindi da stanotte, da domani fino alle 24 quindi fino alla mezzanotte del 3 aprile 2020 ora il 3 aprile 2020 è la data dove tutti quanti noi speriamo che il Premier Conte ci dica che cosa fare cioè è finita oppure andiamo avanti ma già si sa che purtroppo la data del 3 verrà prolungata e quindi si andrà ancora avanti il bollettino di guerra ieri parlava di 136 morti questo è il titolo sempre del Corriere Adriatico basta con le passeggiate inutili ieri altre 22 vittime i contagi nelle Marche salgono a 1737 e qui si spiega in tutto in questo articolo di Lorenzo Sconochichi che cosa appunto si può fare che cosa non si può fare come abbiamo visto i primi due pazienti adesso cerchiamo di dare anche qualche notizia bella qualche notizia buona abbiamo bisogno di tirarci su un po' il morale ragazzi perché altrimenti qua ce l'abbiamo sotto i tacchi i primi due pazienti stubati ci sono il primo l'ha annunciato addirittura il governatore proprio per dare una buona notizia a tutta la regione e quando sono stati stubati hanno subito chiesto dei familiari dove sono i miei familiari sono stati dimessi dalla rianimazione dell'ospedale di Pesaro dunque adesso la cosa più difficile è quella di dover stare ancora per un po' di tempo lontani comunque separati dai familiari perché? perché insomma tutti motivi precauzionali insomma non è così semplice e quindi ci vorrà un po' di tempo però intanto intanto la possono raccontare per esempio uno di questi due stubati è un consulente bancario di 51 anni molto noto nella città di Pesaro era arrivato nel nosocomio con una polmonite interstiziale bilaterale grave come spesso accade con il coronavirus è stato ricoverato due giorni in semi-intensiva poi invece è stato intubato il 10 marzo perché si era le sue condizioni di salute si erano aggravate ora sta meglio ed è stato dimesso dalla rianimazione se tutto proseguirà con questo trend positivo resterà in ospedale per un'altra settimana in sub-intensiva e poi sarà trasferito in una struttura periferica se non addirittura a casa e il primario tempesta che cosa dice uno curato con terapie l'altro invece con farmaci sperimentali chi sono questi due guariti appunto uno è stato curato con terapie normali l'altro che è guarito invece con farmaci sperimentali per ora non potranno avere contatti come dicevo neanche con i parenti stretti e questo è l'aspetto diciamo più duro poi nel reparto di terapia intensiva ce ne sono ricoverati altri 35 e dicono ne tireremo fuori altri ed è sono tutti nella 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 terapia intensiva di Marche di Marche Nord l'età media di questi 35 pazienti ricoverati nel reparto a causa del coronavirus si assesta intorno ai 68 anni con il più giovane che ha 38 anni però è affetto da patologie pregresse le condizioni di alcuni sono molto gravi e le speranze che si salvino sono appese ad un filo altri invece versano in condizioni tali da far ben sperare e noi ovviamente auguriamo a loro tutto il il bene di poter tornare a casa poi c'è quest'altra bella notizia che riguarda Matteo Malaventura l'ex cestista della VL di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi ha fatto impressione quella fotografia dove c'era lui con la maschera con l'ossigeno è stato dimesso dall'ospedale dovrà stare in isolamento ma a casa è stata fatta festa ben tornato papà questo è il cartello che gli è stato preparato finalmente vedo la luce dice lui e quindi insomma un'altra bella notizia che arriva che arriva con con il giornale che giustamente dedica a questo giocatore di pallacanestro che ha vestito anche la maglia della VL e che sta lottando contro il coronavirus dedica mezza pagina quasi una pagina intera hai vinto la partita più importante ti vogliamo tanto bene sono le frasi che insomma sono state messe insieme per questo per questo bel traguardo poi andiamo ancora sulle pagine del Corriere Adriatico eccola qua comune per comune tutti i contagi Pesaro Fano e Ancona sono le tre aree con i numeri più alti poi ci sono i casi di Vallefogli e di Cingoli Pioraco e Monte Falcone che guidano la classifica per mille abitanti sono invece 54 i comuni covid free cioè dove non c'è nessun caso sono tutti piccoli comuni chiaramente ma comunque piccoli o piccolissimi ma sono è bello vedere questi numeri questo 0-0-0-0 dove appunto non ci sono significa che non ci sono positivi ecco è inutile adesso farveli scorrere tutti quanti comunque tanto per farvi vedere un attimo qui tutta la provincia di Pesaro Urbino vedete Fano 170 170 positivi Fossombrone 10 non ce ne sono invece a Fratterosa e a Frontone così come a Monteporzio come a Peglio Peglio non ha nessun contagio e poi anche a Sassofeltrio così come a Tavoleto mentre chiaramente gli altri paesi con Fano in testa dicevamo 170 abbiamo Pesaro 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 che ne ha 453 Pesaro tantissimi positivi poi ancora altri Mondolfo 26 positivi Baroccio 7 così come Macerata Feltria Gabice Mare 13 a Gradara 9 Fermignano 14 Cartoceto 14 Colli Almetauro 11 e poi ci sono altri paesi più piccoli Cagli 6 a Cantiano lo stesso Cantiano 0 a Cantiano non c'è nessun contagio e a Carpegna invece in montagna soltanto 1 lavoratore positivo 16 malati in 7 giorni è allarme all'ASET spunta anche un secondo caso sospetto di Covid-19 tutti addetti dell'igiene urbana un sindacalista dice mancano le mascherine c'è confusione l'azienda crea un comitato e poi la banca di credito cooperativo di Fano che ha donato dei difibrillatori all'ospedale prestiti agevolati anche alle ditte si stanno muovendo anche gli istituti bancari naturalmente perché poi quello che ci attende una volta finita l'emergenza sanitaria come ho già detto e ricordato più volte ma come si sente dire ovunque quello che ci attende sarà una situazione che coinvolgerà tutti non solo gli anziani o quelli che hanno malattie pregresse ma coinvolgerà tutti quanti ed è la questione dei soldi la questione di come mandare avanti e di come far ripartire tutta l'economia le bollette intanto sono state posticipate di un mese stiamo parlando della scadenza delle fatture relative all'acqua ASET gestisce che ASET gestisce nei comuni di Fano di Mondolfo, di Monteporzio nel dettaglio ASET ha deciso di portare a 60 giorni le date di scadenza delle fatture in emissione invece dai 30 giorni ordinariamente previsti mentre ecco queste sono le pagine sono le due pagine che il Corriere Adriatico le mettiamo un attimo insieme così ve le faccio vedere tutte sullo schermo del televisore di casa ecco chi sono queste 5 persone 5 imprenditori che il Corriere Adriatico ha intervistato ponendo loro una domanda ripeto difficile con risposte che chiaramente insomma lasciano un po' in imbarazzo insomma la domanda è moriresti per un giovane qualcuno dice di sì uno dice di no un altro dice ni e gli altri però voglio leggervi questa risposta perché molto a me piace molto si vede c'è tutta la saggezza adesso torno un attimo qua la saggezza dell'anziano mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto la risposta di Francesco Merloni ve lo faccio vedere per chi ancora non lo conoscesse ma insomma molto notissimo tra l'altro è stato anche ministro ministro Francesco Merloni che è un fabrianese classe 1925 è stato ministro dei lavori pubblici politico ma grande imprenditore e alla domanda come vede l'emergenza coronavirus che manda in tilta la sanità e che potrebbe obbligare alla scelta più odiosa cioè in mancanza di respiratori sacrificare i più anziani per salvare i più giovani e la risposta è è un principio della medicina non è una questione emersa ora è un fondamento della natura umana legata a quello più universale della sopravvivenza quindi il pensiero non la intimorisce la risposta di Merloni mi sembra giusto tutelare la specie che le devo dire se riguardasse lei lui risponde che le devo dire se accadrà io sarò incosciente non mi preoccupa comunque ribadisco trovo corretto dare la precedenza a chi potenzialmente ha più aspettative di vita ritengo che sia un criterio normale non può essere altrimenti sono sempre stato fatalista ho affrontato tante difficoltà ho vissuto tante situazioni ho passato la guerra e sono arrivato a quest'età vorrà dire che ne affronterò un'altra i ricordi si affollano sono stato dice ancora renitente alla leva avevo 18 anni quando veni richiamato dai repubblichini era l'ottobre del 43 non mi presentai un giorno venni fermato per un controllo stavo rischiando l'arresto ma dissi che c'era un errore di identità che si trattava di mio fratello e la scampai non puoi immaginare quante ne ho fatte e la domanda del giornalista sempre appellandosi allo stesso teorema sacro santo la sopravvivenza del genere umano è l'unica cosa che conta e poi ci sono le altre risposte vi lascio tutta la lettura il pediatra ai genitori noi bimbi al parco i consigli del dottor Bruno Arcangeli presidente provinciale della categoria il sindaco Ricci ha annunciato il provvedimento restrittivo questi sono giorni critici mentre al distributore senza motivo litiga e va nei guai il cellulare rubato l'altro ieri notte a un equipaggio del 118 è stato ritrovato nell'abitazione di un 35enne residente a Fano e di origini nordafricane che è stato denunciato per ricettazione il recupero della rifurtiva è stato effettuato qualche ora dopo l'episodio quando i tre operatori potes derubati hanno sporto denunce negli uffici del commissariato di Fano mentre dopo i controlli sorpresi in sei su due automobili tutti denunciati dobbiamo andare a pagare l'assicurazione questa è stata la scusa sono 11 le denunce penali ai titolari di esercizi commerciali solo nella giornata di mercoledì 18 ma c'è anche chi usa il supermercato come scusa per uscire più volte e addirittura chi si sposta in sei per pagare l'assicurazione insomma i controlli nei locali sono stati 485 ci sono state come dicevamo 11 sanzioni ai titolari pur non avendo adottato per non aver adottato misure organizzative al fine di evitare assembramenti tra l'altro leggevo proprio ieri che la procura di Milano diceva tutte le persone che sono state denunciate andranno incontro al processo quindi insomma non è una cosa semplice non è una cosa su cui scherzare quindi anche questi ragazzi questi giovani che non sanno quello che stanno facendo poi si dovranno prendere l'avvocato andare in tribunale fare tutto il preso ma è una cosa e poi c'è la fedina penale probabilmente che rimarrà come si dice sporca RSA invece a Villa Fastigi dopo il sopralluogo è slittata l'apertura la struttura per i pazienti covid in convalescenza sarà in funzione da lunedì l'assessore Biancani dice vanno apportate delle modifiche interne per le patologie trattate mentre l'ospedale di Urbino è stato dimenticato per l'assessore della città ducale Elisabetta Foschi sindaco e assessori sono in quarantena come sta lavorando per la città l'assessore della sanità tutta la giunta è in quarantena sottolinea Elisabetta Foschi un nostro assessore Giuseppina Maffei al bilancio è risultata positiva dopo aver accudito la madre in ospedale la madre purtroppo è deceduta ed era risultata positiva al covid però tengo a dire che stiamo tutti bene e continuiamo a lavorare ciascuno da casa propria mi aggiorno anche costantemente con l'ospedale andiamo ancora avanti torrette simbolo delle marche diamo tutti il nostro contributo il presidente del gruppo Morandi sposa la sottoscrizione del Corriere Adriatico per l'ospedale regionale e poi la commissione invece qui siamo a Fano la commissione apre la strada della seduta web la politica amministrativa di Fano non si ferma davanti al virus il governo Conte offre questa facoltà a tutti i consigli comunali nella fotografia vedete il fermo immagine di quattro tra assessore e consiglieri Corrafattori Marta Ruggeri Luca Serfilippi ed Etienne Lucarelli queste sono le immagini la polemica invece di Baldelli sulla sanità che è al collasso serve un commissario ad acta dunque riaprire con medici militari le strutture ospedaliere chiuse della regione e commissare ad acta per l'emergenza è quanto chiede Francesco Baldelli vicepresidente nazionale del Lanci e responsabile nazionale delle autonomie locali di Fratelli d'Italia alla luce della disastrosa pandemia che sta colpendo le marche la pagina di Fano seri e l'omaggio della città Berardi se ne va una parte di storia fanese dice un anime cordoglio per la scorpassa del politico intellettuale Carnaroli dice ci mancherà il ricordo personale del presidente della provincia Girelli dice la cultura lo connotava e la Borghetti Bugaron Band dice era stato era il nostro professore un legame di stima e affetto cementato dall'inno del carnevale la Borghetti Bugaron Band lo chiamava così professore Alberto Berardi era il professore lui le ricambiava dicendo ragazzacci ma era tutto un gioco si stimavano e si volevano bene e c'è il racconto e il ricordo di tutta la band esperti digitali in campo per la didattica a distanza parte la campagna aiutiamo la scuola per supportare docenti e maestri sono esperti digitali che si uniscono per dare un aiuto gratuito agli studenti ai docenti durante la chiusura delle scuole a causa del covid-19 Aiutiamo la scuola è il nome dell'interessante progetto che è nato in poche ore durante lo scorso fine settimana a Fano ad idearlo è stato Fabio Signoretti digital marketer insieme ad un gruppo di altri professionisti liberamente costituito una iniziativa no profit di alcuni esperti che hanno deciso dunque di aiutare di dedicare del tempo per permettere a tutti di seguire la didattica a distanza imposta dall'emergenza coronavirus un gruppo di professionisti che appunto si può consultare sul web poi al di là del covid-19 ci sono anche le altre cose quindi otto alberi da battere per realizzare la ciclabile dell'Arzilla al posto di Olmi e Acero saranno sistemate sedici piante di lentisco e ancora domenica e con questo siamo quasi in chiusura domenica i big degli alimentari restano chiusi quindi domenica prossima Conad Coop Oasi Tigre Coal tutti questi nomi grandi piccoli supermercati rimarranno chiusi nella domenica in queste due domeniche di marzo hanno aderito questa nuova direttiva che abbiamo adottato la finalità di assecondare la pressione emotiva di tutti per mantenere alta la nostra risposta di servizio verso la comunità al pari della fiducia risposta in noi e dai nostri clienti in sostanza stanno chiusi giustamente anche perché altrimenti poi qui non se ne esce più e quindi nella giornata domenica tutti questi supermercati saranno chiusi sperando in un assalto il sabato allora vi voglio far vedere prima di salutarci queste fotografie che riguardano Fano ve l'avevamo detto ieri sera nel corso del telegiornale questo è il campanile di piazza di piazza 20 settembre con il tricolore con le luci questa è la prima foto questa è la seconda foto eccola qua e poi le altre guardate che belle queste foto le mura con questi questo tricolore molto bello qui siamo delle parti della Mura Sangallo quindi la stazione dei treni e con queste belle fotografie chiudiamo qui la nostra rassegna stampa vi ricordo che abbiamo tanti appuntamenti per chi ci segue nel corso della giornata a mezzogiorno chiaramente le repliche del telegiornale le repliche di questa rassegna stampa anche un demand ma abbiamo alcuni appuntamenti in diretta a mezzogiorno abbiamo l'Angelus dal dalla Basilica di San Pietro con il rosario che è guidato dal Cardinale Angelo Comastri molto bello da seguire e da pregare insieme poi c'è il pomeriggio alle tre di nuovo l'appuntamento dalla cappellina qui purtroppo non potendo far venire i volontari perché non possono uscire di casa quindi non è non era fattibile averli qui in diretta non non possiamo mandarlo quindi in live ma l'abbiamo registrato anche qui la coroncina e il rosario poi alle 18 di nuovo la Santa Messa in diretta e alle 21 dalla Santa Casa di Loreto il rosario di nuovo con l'Arcivescovo Dalcin mi pare di avervi detto tutto l'ultima cosa stasera c'è il telegiornale ma questo lo sapete alle 20.30 il telegiornale Occhio alla Notizia e questo il numero invece se volete chiamarci se volete soprattutto scriverci scriverci messaggi anche attraverso Whatsapp messaggi foto video quello che vi passa per la mente grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti arrivederci a tutti